da oltre 40 anni in aboca coltiviamo salute questa è una cosa molto particolare noi siamo una società agricola tipica in quanto per noi i campi le coltivazioni sono i nostri bioreattori da dove generiamo i principi attivi che poi utilizziamo nella produzione di prodotti 100% naturali per la salute dell'uomo capaci cioè allo stesso tempo di risolvere i problemi di salute ma anche di rispettare il nostro organismo e l'ambiente per fare questo abbiamo creato un ciclo di produzione totalmente verticalizzato che dall'agricoltura arriva fino al prodotto finito passando attraverso il cuore di aboca che è certamente quello della ricerca noi infatti non siamo solo diciamo nel mondo della tradizione partiamo dalla tradizione a questo abbiamo dedicato anche un museo di storia delle piante medicinali che poi altro non è che un museo di storia della medicina ma dalla storia arriviamo poi alla evoluzione tecnologica più moderna nei nostri laboratori dalla fitochimica alla biologia dei sistemi noi studiamo la complessità della natura per comprendere come poi questi rimedi naturali possano dialogare con il nostro organismo con il quale condividono lo stesso linguaggio e questo è fondamentale per comprendere anche quale debba essere il ruolo dell'impresa all'interno della comunità globale della quale facciamo parte e per noi l'impresa è appunto un elemento all'interno di un sistema al quale deve contribuire in maniera positiva per questo aboca oggi è una società benefit e il nostro impegno per il bene comune è all'interno del nostro statuto e in primo luogo naturalmente si rivolge ai nostri dipendenti e in questo percorso abbiamo condiviso per tanti anni un cammino insieme con empaia e io mi auguro che potremo farlo ancora anche per il futuro per garantire al massimo la salute e la sicurezza delle persone che lavorano in apoca e pertanto guardando al futuro con uno sguardo pieno di fiducia sulle grandi opportunità che ci saranno conoscendo sempre più la natura e quali risposte possono essere trovate in natura per la salute dell'uomo nel rispetto dell'ambiente siamo altresì consapevoli delle grandi sfide che abbiamo di fronte ma anche fiduciosi che attraverso lo sviluppo di un'impresa vista come comunità tra le comunità si possa dare un contributo positivo al bene comune e allo sviluppo della comunità nella quale lavoriamo Fondazione Empaia da 85 anni coltiviamo insieme un domani sicuro